Belluno si concentrerà sul verde pubblico, feltre, sulle piste ciclabili e il recupero di appartamenti per persone fragili. Fonzaso ha un impianto per atletiche alla piastra polifunzionale sportiva della Scuola Media, Cesio Maggiore ha la sistemazione del parcheggio adiacente al Museo della Bicicletta. Sono alcuni dei progetti che hanno superato la fase 2 del SUS, acronimo di sviluppo urbano sostenibile che ha messo insieme 12 comuni della Val Belluna, da Ponte nelle Alpi a Fonzaso. È una grande opportunità e che abbiamo saputo cogliere tutti insieme, abbiamo fatto squadra. Non abbiamo avuto nemmeno difficoltà a dividere le aree di intervento, perché quello che era davanti a noi tutti era la volontà di far cadere questi contributi, queste opportunità per tutto il territorio della Val Belluna. 13 milioni di euro la cassaforte del finanziamento europeo erogato attraverso la Regione Veneto che la settimana scorsa ha dato il via libera alla fase di progettazione. Capofila della strategia, i comuni di Feltre e di Belluno. Per la prima volta Belluno fa parte di questo percorso virtuoso legato ai fondi FESR europei. Fondamentale è stato il lavoro di strategia. Un progetto importante che riguarderà il green urbano, in pratica il verde urbano, queste alberature che abbiamo all'interno della città, i parchi che abbiamo, le questioni così importanti da poter presentare una progettazione. A coordinare il gruppo di lavoro composto oltre che dai 12 comuni, anche da Dolomiti Bus e da Ater, il GAL che ha aiutato ad allargare lo sguardo per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ora si tratta di dare concretezza ai progetti che devono essere completati entro la fine del 2024.